In provincia dell'Aquila è allarme sociale per i trattamenti sanitari obbligatori, il cui numero ha superato il doppio della media nazionale che è di 16 per ogni 100.000 abitanti. Nel 2017 nel territorio provinciale, che registra la presenza di circa 300.000 persone, sono stati 100 i ricoveri coatti, mentre nei primi 6 mesi la tendenza è in aumento con 62 TSO. Tra le cause di questo non invidiabile record nazionale, sicuramente le conseguenze del post-sisma dell'Aquila. A lanciare la preoccupazione a invitare le istituzioni in testa alla ASL provinciale dell'Aquila ad intervenire con un'azione coordinata e congiunta, è il vice sindaco del comune Guido Liris. Liris ha inviato perciò una lettera al direttore generale della ASL Rinaldo Tordera e al capo del Dipartimento della Salute Mentale, il professor Alessandro Rossi, con cui chiede l'attivazione di un tavolo per intervenire con urgenza dopo l'approfondimento del forte disagio che si è manifestato con chiarezza dai dati dei ricoveri. Un disagio che è complesso da interpretare, che coinvolge più strutture della ASL, in particolare il reparto di psichiatria dell'ospedale. Raggiungere la quota del doppio della media nazionale di TSO fa emergere un disagio, a detto forte, che va associato a dieci anni dal sisma anche ai postumi del tragico terremoto, sul quale si deve intervenire con assoluta tempestività. Gli altri segni di disagio sociale inerenti alla ludopatia, l'abuso di alcolici e l'assunzione di sostanze stupefacenti hanno raggiunto livelli preoccupanti. L'IRIS indica la strada in attesa del tavolo. L'allarme su TSO incrocia l'emergenza legata alla carenza di personale della ASL, denunciata anche dal sindaco e dalle sigle sindacali. La regione deve subito autorizzare le procedure per l'assunzione di personale. Non ci sono più le condizioni per tenere aperti i servizi essenziali. Parliamo di un ambito, ha ribadito l'IRIS, in cui tutto poggia sull'intervento umano, quindi il turnover incide maggiormente sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni.